Salve a tutti a Thomas Riker e benvenuti in questo nuovo video, questa nuova monografia di un regista italiano come avete potuto intuire dal titolo Luigi Bazzoni l'atmosfera è cupa è cupa perché sono qua in giardino, sto approfittando della temperatura che comincia ad alzarsi e infatti ho il cappotto Luigi Bazzoni Luigi Bazzoni è un regista che ho scoperto quasi per caso nel quale ci tengo particolarmente a parlarne immediatamente e subito forse sono molto impreparato a parlare di questo regista solitamente quando faccio una monografia perlomeno un libro su questo regista me lo compro e me lo leggo per cercare di studiare, di capire meglio questo autore non come ho fatto con Bazzoni con Bazzoni non ho letto niente, c'è ben poco tra l'altro su di lui ho visto solamente appunto i suoi film che purtroppo sono solamente cinque però come ho detto mi interessa particolarmente parlarne perché non è molto conosciuto è conosciuto tra gli appassionati, quello sì però appunto è un autore che mi ha colpito veramente tanto del quale mi fa piacere parlarne anche se probabilmente non dirò niente di interessante se non appunto opinioni personali molto... che lasceranno molto il tempo che trovano cominciamo subito, cominciamo subito dal primo film il primo film è del 65 ed è La donna del lago corregia con Rossellini, nipote del Rossellini con la R maiuscola una corregia che però da quello che ho capito non è stato un vero 50-50 per così dire sembra che La mano di Bazzoni fosse molto più presente bisogna dire che vedendo i film successivi si capisce che effettivamente La mano di Bazzoni era molto più di valore all'interno di questo film La donna del lago è un giallo racconta la storia di questo uomo che arriva in questa località appunto di villeggiature diciamo così, questo paese vicino a un lago dove praticamente lui vorrebbe trovare appunto un luogo appartato stare un po' in solitudine appunto per poter completare il suo libro e dove vorrebbe ritrovare una sua vecchia fiamma per così dire arrivato lì però scopre che appunto questa ragazza è morta in circostanze abbastanza misteriose e in un certo senso comincia non diciamo così di sua volontà ad indagare su questa storia, su questa vicenda e scoprirà cose molto interessanti allora, questo film è abbastanza conosciuto appunto tra gli appassionati del genere, del giallo all'italiana nonostante sia fuori diciamo dal tempo e dai canoni del giallo all'italiana siamo nel 65 quindi siamo due anni dopo il primo film che introduce il giallo all'italiano ovvero la ragazza che si parla troppo di Mario Bava e del 64, se la donna per l'assassino, sempre Mario Bava quindi il giallo all'italiana, quello che conosciamo dagli anni 70 in poi non è ancora stato codificato veramente e ci sono appunto alcuni pezzi, alcune grandi colonne che compongono la struttura che diventerà il giallo all'italiana e appunto Mario Bava con i suoi film e poi altri film che sono molto importanti che inseriranno un pezzo importante di quelli che sono gli elementi che sempre vengono ritrovati nel giallo all'italiana il sesso, la psicologia, la follia dell'assassino in un certo senso che a volte c'è, a volte non c'è, a volte sono dei semplici gialli diciamo così, dove l'assassino uccide per soldi nello stesso periodo più o meno esce Libido che è un altro film dove la psicologia è molto importante e in questo film di Bazzoni vediamo alcune quelle che saranno le ossessioni del regista che ritorneranno in altri film prima di tutto la grande importanza appunto della psicologia dei personaggi che mette molti in secondo piano la storia la storia nei film di Bazzoni sembra quasi che sia lì per tenere insieme per che ci deve essere in realtà qui ma anche in altri suoi film sembra che appunto i personaggi li interessino di più come agiscono questi personaggi cosa succede dentro la loro testa e qui lo vediamo benissimo vediamo dei fantastici flashback vediamo delle magnifiche soggettive di corridoio che sono veramente stupende diversissime da quelle che aveva già introdotto Mario Bava nel film dell'anno prima appunto se non è per l'assassino sono soggettive che secondo me al quale secondo me la reagente si è ispirato più a queste che non a quelle di Bava secondo me magari sto dicendo una cazzata anzi probabilmente è vero però trovo che questo sia un film insieme a Blow Up ad esempio di Antonioni che sia molto più importante per il giallo all'italiana di quanto magari non si pensi Bazzoni in un certo senso introduce anche quel giallo diciamo così il gotico rurale ad esempio di Pupi Avati proprio perché comunque siamo in un piccolissimo paesino troviamo gli stessi elementi che in un certo senso ritornano anche nella casa della fianza che ridono quindi una specie di omertà che nasconde qualcosa in questo paese che sembra fuori dall'universo sembra quasi di essere sempre all'interno di un sogno quasi il bianco e nero con il quale viene fotografato questo film è fantastico ci sono inquadrature di tramonti di paesaggi stupendi dove Bazzoni inserisce i nostri protagonisti e con il quale crea sempre un quadro meraviglioso qui ma anche nei film successivi è un bianco e nero meraviglioso che con delle forti tonalità scure pochissimo grigio in realtà molto bianco molto chiaro e neri molto scuri che secondo me è il più bel il più bianco e nero che ci sia questo film come ho detto molta psicologia di personaggi molto torbido anche molto morboso per le tematiche per l'epoca naturalmente insomma 65 insomma quindi magari visto adesso non sembrerà così particolare però per l'epoca lo era sicuramente c'è veramente un intreccio molto particolare una storia molto complicata che verrà svelata appunto passo per passo questo è un puzzle un giallo veramente bello da scoprire da vivere e da risolvere insieme insieme al protagonista è un film veramente fantastico bellissimo esteticamente con una trama intricata con dei fantastici attori c'è Philippe Leroy c'è Salvo Randone e come si sa un film con Salvo Randone è bello a prescindere questo primo film di Bazzoni è un giallo diciamo così è un po' è un po' tipico come film è molto particolare e come ho detto è fuori sia dal giallo che aveva introdotto Mario Bava solo un anno su un anno due anni prima ed è in un certo senso diverso anche da quelli che verranno dopo è una giusta diciamo così via di mezzo che che però come ho detto unita a tutti gli altri elementi che altri film inseriranno altri film come i film di Lenzi Così Dolce e Così Perversa Il Dolce Colpo di Deborah Spasmo Orgasmo e tantissimi altri verrà usato appunto per costruire quello che sarà appunto il giallo degli anni 70 nel quale Bazzoni ritornerà in un film successivo il secondo film di Bazzoni è invece un western siamo nel periodo dove il western è praticamente esploso in Italia quindi anche Bazzoni ne gira ne gira uno il film è L'uomo all'orgoglio e alla vendetta con protagonista Franco Nero la storia di questo di questo ufficiale dell'esercito messicano che si innamora di una prostituta diciamo così la deve arrestare ma lei riesce a fuggire viene punito perché appunto lei gli scappa praticamente la sua prigioniera e poi la becca ha letto con un suo superiore e nel diciamo nell'ira nella fuoriato del momento lo uccide e quindi deve assolutamente scappare e diventa praticamente un fuorilegge insieme a questa donna e insieme al compagno di questa donna anche un grandissimo Klaus Kinski dovranno scappare nel deserto per cercare di raggiungere l'America e appunto cercare di suffugire e cercare di salvarsi in questo viaggio naturalmente dovranno effettivamente trasformarsi in fuorilegge e cercare appunto di sopravvivere di fuggire di fuggire all'autorità altro film particolare perché non non c'entra assolutamente niente con i gialli scusate con i western l'italiano del periodo naturalmente derivativi derivativi fino a un certo punto nel senso che comunque erano i buoni western dell'italiano erano dei film molto d'autore e non erano tutti quanti derivativi da Sergio Leone e questo film però naturalmente si distacca un po' ancora una volta la storia sembra lì solamente per caso a Bazzoni interessa soprattutto raccontare come funziona questo rapporto con questi due protagonisti abbiamo quest'uomo appunto interpretato a Franco Nero benissimo che è praticamente che si capisce che non ha non ha tutte le rotelle a posto naturalmente c'è una gelosia e degli scatti di ira veramente di grande violenza e appunto il rapporto che si instaura con questa donna è un rapporto quasi infernale per il protagonista appunto questa donna che non si capisce non si sa cosa vuole cosa cerca e naturalmente questo questo personaggio di Franco Nero che appunto si rovina la vita in un certo senso per lei e che porterà naturalmente a un finale molto particolare ma qui siamo dalle parti della diciamo così della tragedia quella vera quindi il finale non potrà che essere appunto tragico qui Bazzoni come anche nel film precedente dà molto spazio al al paesaggio il paesaggio non è assolutamente secondario nelle inquadrature di Bazzoni e qui Bazzoni utilizza spesso lo zoom a uscire lo zoom ad allontanarsi a posizionare il soggetto dell'inquadratura nel vuoto nella solitudine più assoluta come quella che viene in un certo senso descritta anche dal film quasi tutti i personaggi che vediamo sono dei personaggi che sono da soli sono abbandonati in un certo senso e sono completamente persi in queste in queste ampie vallate di deserto che vediamo per tutto il film e il finale poi fantastico girato come se fosse un sembra un film di Bergman parla l'apocalisse è veramente fantastico un film particolare che appunto toglie quello che è quello che erano le caratteristiche del western l'ironia l'ironia è quasi praticamente anzi è inesistente in questo film sono quasi eliminate sono quasi eliminate le sparatorie le sparatorie sono molto poche sono corte sono molto sono molto concentrate e non essendo appunto quello che si può definire un film divertente un film diciamo così che fa che fa effettivamente divertire per esempio anche anche Django pur essendo un film serio in un certo senso è molto divertente è molto più divertente è molto più di intrattenimento questo film appunto di Bazzoni questo è L'Uomo d'Orgoglio e la Vendetta è un film come ho detto atipico come saranno tutti i film di Bazzoni e quindi io non credo non lo so non l'ho letto come ho detto non so se ha fatto un grande successo secondo me no perché è veramente troppo distante troppo particolare dagli altri film del periodo che però secondo me vale assolutamente una visione per lo meno per vedere come un genere che è stato molto inflazionato molto molto sfruttato diciamo così per l'epoca vedere come appunto si può anche fare un qualcosa di diverso o qualcosa di veramente diverso da quello che era diciamo la moda la moda al momento e il terzo film di Bazzoni è sempre un western questo qua non mi ricordo il titolo effettivamente che era in Italia perché questo film purtroppo è parecchio introvabile comunque dovrebbe essere Blue Gang e vissero per sempre felici e ammazzati una cosa del genere è la storia di questa famiglia la storia dei fratelli Blue è fantastico che sono questa famiglia siamo appunto ancora un western che è una specie di diciamo è un film più o meno da Bonnie e Clyde molto più divertente devo dire del precedente western di Bazzoni vediamo questa famiglia appunto questi due fratelli e sorella che vanno in giro a fare i banditi vanno in giro a cercare di guadagnarsi da vivere rapinando banche le solite cose insomma è un film ancora una volta che parla molto più di protagonisti che della storia in sé che delle rapine abbiamo semplicemente la famiglia abbiamo questo sceriffo interpretato in una maniera particolare da Jack Palance che probabilmente io credo fosse in un set vicino e Bazzoni l'abbia preso l'abbia fatto tra quattro inquadrature ha detto stami lì un attimo che devo fare una roba e poi l'abbia inserita nel film perché praticamente Jack Palance nel film non parla mai mai la sua presenza è sempre è sempre l'incombe su questi su questi personaggi ma praticamente non spiccica una parola monoespressione ma fantastica e niente il film è tutto qua è praticamente la storia di questi di questi quattro folli che vanno in giro a rapinare si innamoreranno avranno loro mogli eccetera fino ad arrivare naturalmente al finale al finale tragico dove praticamente tutta la famiglia appunto vivrà per sempre felice e ammazzata un film particolare perché comunque si racconta questa storia con molta leggerezza Bazzoni racconta come queste persone riescono ad essere felici nella loro vita comunque breve e a morire in una maniera in una maniera terribile ma comunque a morire alla fine di una vita che è stata goduta appieno non so come non so come raccontare questo film questo tipo di film diciamo con la l'esaltazione della vita del criminale diciamo non fanno parlare del mio accordo diciamo non li apprezzo tantissimo qui però naturalmente Bazzoni non racconta di criminali per così dire ricchi non stiamo parlando di diciamo così del del mafioso del capo stiamo parlando di di poveracci di gente che non si approfitta comunque di quello che di quello che prende però chiaramente va in giro ruba saccheggia eccetera eccetera quindi chiaramente non esattamente le bra persone però comunque non è non è qualcuno che ruba per per arricchirsi ma semplicemente per per sopravvivere o perlomeno questo è quello che ci ho visto io questo credo sia quello che voleva raccontare raccontare Bazzoni e il film non è non credo sia un grandissimo film devo dire non non penso ossia credo che nell'ultima parte il film sia un pochino allungato potrebbe far sorcere un po' il naso e comunque appunto la storia forse non potrebbe non essere così intrigante però comunque anche qui non abbiamo un western particolarmente canonico ecco per così dire quindi vale assolutamente la visione proprio appunto per le sue differenze che uno si può trovare rispetto ad altri film a questo punto con il western praticamente finito ritorna il giallo e qua siamo proprio nel momento del giallo all'italiano il film è giornata nera per l'ariete che ricalca ovviamente la moda di inserire l'animale nel titolo iniziata all'aria argento e usata più o meno da tutti questo qua devo dire purtroppo è il film con il titolo più brutto di quelli che hanno l'animale nel titolo però è uno dei film più belli comunque di questo sottofilone per capirci questo filone zoofilo dell'animale nel titolo è giornata nera per l'ariete è franco nero protagonista giornalista che viene coinvolto in una serie di omicidi guarda caso nel giallo all'italiano c'è una serie di omicidi c'è l'assassino che va in giro è strano è strano mai vista la trama del genere in un film giallo allora ancora una volta la trama sembra sia secondaria è messa da parte è quasi banale in un certo senso non credo neanche abbia tanto senso come giallo devo dire credo ci sia un paio di buchi all'interno della sceneggiatura comunque il film è meraviglioso dal punto di vista estetico il film è inattaccabile dal punto di vista visivo è storaro alla fotografia fa dipinge un capolavoro eterno a livello estetico in questo film Bazzoni ha già dimostrato di essere un mostro a livello di inquadratura a livello tecnico qui però secondo me tocca il suo punto più alto che raggiungerà di nuovo il film successivo nell'ultimo ma in questo film fa veramente qualcosa di straordinario lavora con i colori tonalità di blu colori freddi anche quando abbiamo la giornata soleggiata sembra che sia comunque una sorta di freddo una sorta di 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 sterilità della vita e degli ambienti che cosa che c'era già nella donna del lago e di nuovo la storia la storia d'amore che che è finita Franco Nero avrà la sua ex moglie con il quale ha un rapporto particolare naturalmente appunto le relazioni amorose difficili questo questo personaggio di Franco Nero ha anche problemi con l'alcol problemi al lavoro perché comunque è un personaggio appunto difficile da gestire comunque ritorna il personaggio isolato che è da solo che ha e che ha davanti a sé una strada lastricata di sofferenza e che non ha via d'uscita quasi il film diciamo così appunto ha una trama classica perché ce l'ha naturalmente bisogna stare comunque all'interno dei canoni del giallo però non ce l'ha assolutamente nella descrizione di personaggi personaggi che non hanno non ha nessuno di loro ha quasi possibilità di salvezza Franco Nero per primo ma nessuno in realtà sembra avere una via d'uscita da questo mondo da questo mondo freddo appunto messo in scena da Bazzoni con delle inquadrature fantastiche con cui Bazzoni sfrutta tantissimo le finestre i controluce crea all'interno un'inquadratura all'interno di un'inquadratura a volte sfrutta la finestra per creare un altro frame all'interno all'interno appunto del quadro della scena e tira fuori un film che è appunto straordinario a livello visivo un'interpretazione di Franco Nero rara veramente rara sarà stato il personaggio che gli è venuto particolarmente bene veramente fantastico la trama gialla come ho detto potrebbe essere un po' un po' macchinosa in certi punti però riesce a intrattenere benissimo il finale diciamo con la risoluzione non è è meno canonico diciamo così rispetto agli altri già le italiane all'epoca però riesce ad essere comunque diverso e interessante riesce ad essere diverso e che fa riflettere che fa riflettere anche c'è c'è un certo tipo di modernità di scrittura in alcuni punti appunto nelle parti psicologiche soprattutto diciamo per le parti di intrattenimento Bazzoni naturalmente funziona benissimo nelle parti di suspense negli inseguimenti negli omicidi riesce ad essere sia scioccante ma anche non non cade non cade nello splatter gratuito anzi gli omicidi di Bazzoni sono molto eleganti per così dire sono molto fuori fuori dal genere dell'epoca sono 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 girati con una grazia il sangue è messo col contagoccio c'è solamente quando ci deve essere e ce n'è veramente poco ed è usato veramente in maniera fantastica sono natale per la rete uno di miei già dell'italiana preferiti ed è il mio film di Bazzoni preferito uno quello che ha odorato di più quello che mi ha fatto conoscere Bazzoni e che mi ha mi ha fatto venire una voglia amata di vedere tutti i suoi film peccato che appunto sono solamente cinque adesso vado a parlarvi dell'ultimo che è Le Orme altro giallo ma un altro giallo ancora particolare Rinda Volkan protagonista è questa traduttrice che praticamente un giorno perde la memoria perde la memoria di un paio di giorni un paio di giorni appena trascorsi non riesce a ricordarsi bene che giorno è cosa ha fatto cosa non ha fatto e trova un indizio una cartolina che arriva da un luogo di villeggiattura in Turchia se non mi ricordo male Garma questa quest'anno tra l'altro è ossessionata da un incubo da un sogno che ha da qualche giorno è ossessionata da questa da questa scena che ha visto di un film qualche anno prima un film che non esiste naturalmente fatto apposta per questo film per questo Le Orme il film era appunto Le Orme sulla Luna ed era la storia di questo astronauta che veniva abbandonato non si capisce bene da chi da un'organizzazione criminale malvagia tipo Spectre o da chissà cosa e veniva abbandonato appunto sulla Luna e questa donna appunto è ossessionata da questo sogno a questo incubo nel quale diventa anche lei protagonista e va appunto in questo in Turchia in questa città questa Garma città che non non esiste tra l'altro e ritorna ancora una volta l'albergo che avevamo già trovato nel primo film della Donna del Lago ritorna il luogo di villeggiatura deserto perché fuori perché fuori stagione senza nessun turista ritorna l'isolamento del protagonista che appunto che che viene che viene inserito in un luogo in un luogo appunto deserto il luogo di villeggiatura fuori stagione come era nella Donna del Lago appunto e di nuovo appunto il personaggio isolato il personaggio che non ha che non ha possibilità che non può trovare possibilità di salvezza negli altri la può trovare solamente in se stesso e la trama delle orme è è difficile da raccontare ed è un film difficile da raccontare c'era un bellissimo articolo di Nocturno dove questo film veniva per descrivere questo film veniva usata questa espressione oggetto cinematografico non identificato ed è ed è vero ed è vero è un un film difficile da spiegare è difficile da raccontare da far capire a qualcuno che non l'ha visto è un film che passa dal giallo dal giallo di investigazione di questa donna che cerca di ritrovare la memoria a quasi al film dell'orrore io ci ho trovato chiaramente Dario Argento in alcune scelte ma anche fulci nel modo elegante di come viene messo in scena questo giallo ci ho trovato anche un rimando diciamo un'ispirazione che forse è venuta in un film recente che era Lacrime di Sangue soprattutto nell'uso delle vetrate colorate fantastiche usate in controluce da Bazzoni che ho ritrovato appunto in questo film che tra l'altro di qualche anno fa che è Lacrime di Sangue che è del 2012 se non sbaglio che è un film bellissimo omaggio al giallo dell'italiana a quasi tutto il giallo dell'italiana fotografia sempre di storaro se non mi ricordo male ed è fantastica abbiamo le sequenze oniriche dove ritorna ancora il blu sequenze freddissime dove l'incubo di questa donna prende vita e dove si fa fatica a distinguere la realtà dall'incubo e dove questa donna dovrà cercare di trovare un appiglio per poter rimanere nella realtà e per poter ritrovare la memoria appunto di questa famosa di questa famosa garma di questo posto che lei ha visitato tempo prima nel quale non ha nessun ricordo qualcuno lì sembra conoscerla ma non è chiaro neanche quello e il film diventa un labirinto della mente nel quale lo spettatore ci finisce dentro e ne è catturato fin dei primissimi minuti nonostante appunto la storia di quello che perde la memoria come protagonista è una cosa già vista abbastanza e molto sfruttata anche adesso ne escono tantissimi film del genere però questo con la tecnica di Bazzoni con la sua autorialità con i suoi temi che tornano e che vengono riadattati per questo nuovo film uniti a una forza di immagine veramente bellissima tutte le scene sulla spiaggia appunto le scene gli interni nell'albergo le vetrati che introduce ancora una volta il paesaggio ancora una volta il bosco gli alberi che vengono che vengono frapposti fra la camera e il soggetto quasi a voler nascondere a voler confondere lo spettatore e a voler far perdere ancora di più le tracce del protagonista allo spettatore e fare in modo che lo spettatore possa perdersi insieme al protagonista che possa vivere le emozioni le emozioni appunto di questa donna interpretata benissimo da Florinda Bolkan e vivere con lei la risoluzione forse sì forse no del mistero e questo era l'ultimo film di Luigi Bazzoni purtroppo e quindi finisce qui questa velocissima monografia fatta molto di getto come ho detto non ho studiato niente di Bazzoni non ho letto praticamente nulla solamente visto i film e ne ho voluto così parlare senza punti senza niente non mi ricordo neanche gli anni di film devo dire la verità e penso di aver fatto anche qualche errore forse nelle trame spero mi perdonerete più che altro mi interessava fare questo video perché mi piacerebbe trovare qualcun altro che ha apprezzato Bazzoni almeno quanto me forse forse c'è un eccessivo amore da parte mia probabilmente forse perché i suoi film mi sono piaciuti tutti quanti subito in una maniera incredibile quindi forse sono poco obiettivo nel parlare di questo autore spero di trovare qualcuno che possa dirmelo spero che qualcuno possa aver apprezzato i suoi film spero comunque che questa monografia vi possa essere stata d'aiuto per scoprire qualche film interessante e perché no un autore che non conoscevate quindi vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima ciao a tutti